Clamoroso al Monterissi, vince contro ogni pronostico il Gragnano, perde incredibilmente il Cerignola. La sorpresa delle sorprese nella ventesima giornata di Serie D porta alla firma dei Campani che sbloccano il risultato in apertura su rigore a Comartone e raddoppiano ad una decina di minuti dal termine con Franco. Gli uomini di Teore Grimaldi si allontanano ulteriormente dalla betta della classifica dopo la sconfitta di Nardò e scivolano a meno 7 dal Potenza. Missione compiuta invece per la capolista del Giro Neacca che batte 3 a 1 la Turri Salviviani, caso nella frazione inaugurale spaventa i Lucani capaci però poi di piazzare il Ribaltone con le reti tutte nella ripresa di Disenso e del solito Franza. Quest'ultimo autore di una doppietta torna a vincere dopo tre turni di astinenza all'Altamura che si aggiudica al D'Angelo il derby contro il Manfredonia di Sant'Agnello e Montemurro. I gol entrambi nel primo tempo che restituiscono il sorriso agli uomini di Ciro Ginestra e complicano la situazione in classifica dei Sipontini. Un gol e quattro legni invece per il Gravina nella trasferta di Francavilla in Sinni, padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Zappa Costa l'undici di Antonio De Leonardis. Riesce nel finale ad evitare almeno la sconfitta con questo guizzo poderoso di Molinari. Continua il momento favorevole del Nardò sempre più in orbita a playoff con la vittoria per 3 a 2 di San Severo contro l'Alto Tavoliere che interrompe a sua volta dopo sette risultati utili di fila alla propria serie positiva. Vince in trasferta con lo stesso punteggio il Taranto a Sarno. Altra battuta d'arresto invece per lo Sporting Fulgor che incassa tre reti a San Sebastiano al Vesuvio dal Pomigliano e resta in fondo alla graduatoria. Cambio della guardia invece in vetta al campionato di eccellenza. Perde il primato l'USB Tonto che pareggia a Barletta si gioca per la terza ed ultima volta senza pubblico sugli spalti del Manzichi Apolin. Terrone illude nel primo tempo i neroverdi di Gino Zinfolino scesi in campo in formazione largamente rimaneggiata. I biancorossi di Franco 5 in superiorità numerica per l'espulsione di Rana pareggiano ad un quarto d'ora dal termine in Consani. Il ruolo di regina del raggruppamento passa ora al Gallipoli che batte a Terlizzi il Molfetta con una doppietta di Minigiano. Secondo posto in compagnia dell'USB Tonto per il Fasano che sbanca a Radeo con il terzo centro in due partite del difensore Anglani e la rete di Berardino in chiusura di prima frazione inutile nella ripresa del rigore trasformato da De Razza per i Leccesi. Prime 5 racchiuse in soli tre punti. Quarto posto per il Caserano che batte 3 a 2 in rimonta al Capozza e il Vieste. Quinto invece per la vetrana che piega da resistenza dell'Otranto grazie a questo gol di Capellini dagli 11 metri. Vittoria e aggancio in classifica per l'Omnia Bitonto con la Vigor Trani al Città degli Ulivi. Infimo sbaglia un rigore per gli ospiti. Patierno dalla parte opposta non perdona sempre dal dischetto. Poi Trani in dieci per il Rosso a Telera. I Bitontini ne approfittano per chiudere i conti con Turitto e Zotti direttamente su punizione di Camporeale. L'unica rete dei tranesi. Torna in orbita a playoff il Corato che ne fa tre al Noboli davanti al proprio pubblico. Cotello e Lacarra spianano la strada agli uomini di Vito Castelletti. Sguera al rientro dopo un lungo infortunio completa il Tris. 11 gol ai giovani del Galatina per l'Unione Calcio Biceglie che ottiene il primo successo del 2018 nella domenica del ritorno nella propria casa al Diliddo. Per l'occasione però chiuso al pubblico.